Ti attento allo scalino Oh, buongiorno principe È una combinazione oppure lei mi sta seguendo? Ah, no, no, questa è una combinazione, Greta Però scusi, adesso io ho molto da fare Passerò più tardi in suo albergo Ma non è contento di vedermi? Eh, sì, sì, certo Sa, c'è una cosa che volevo dirle Però è un po' imbarazzante Ecco, vede, siccome io sento... Sento una certa simpatia per lei Non volevo più mentirle Io non sono la figlia di Giuseppe Zerroni Sono la sua segretaria Pensavo che lei, sapendo questo, non si sarebbe più interessato a me Minchia, che sfortuna Eh, no, volevo dire... Comicos, acurastos, perdi tempo con le donne Invece di lavorare al banco dei frutti Voi italiani siete tutti uguali Ma... ma allora lei... No, un momento, un momento Che farabutto No, Angela, che cosa hai capito? Scusa, scusa, stammi a ascoltare Ti lasci? Senti, ma no, un momento, ti prego Non puoi sentire più niente? Preascoltami, no Non puoi sentire più niente?